Si trovi bene qua, poi si è tranquillo, si trovi bene con la mia squadra, comunque per me è normale, perché il cacciatore quando tu vuoi andare avanti, sempre tu devi cercare partita a partita per giochi bene, perché anche io non posso giocare solo io, perché anche la mia squadra è sempre prima di tempo, stiamo giocando bene, però come stiamo partendo tardi, facendo la squadra, cominciò tardi, però adesso siamo molto migliorati per andare avanti, diciamo che prima tempo, all'inizio 20 minuti siamo bene, siamo giocando bene, poi siamo, vado poco giù tutti quanti, poi cominciamo ancora a vado poco avanti, però sempre quando non ci sono bagliati a campo, possibile partita a parete o qualche squadra ha vinto, però noi bagliamo due ruoli, poi loro hanno fatto subito due gol, perché stiamo facendo bene, prima siamo 0-1 per noi, 1-0, poi dopo stiamo facendo sempre qualche ruola, poi siamo 2-1-2, e quello già anche quello mi fanno nevoso è troppo. Speri di poter raggiungere quanto prima il professionismo? Sì, sì, come speriamo, perché i calci sono così, sempre campionato a campionato, tu vedi ceca per vado, sempre avanti, perché quando tu hai fatto bene, sempre tu trovi un altro anni più alto. Certamente sì. Sì, sempre così.